Un po' di ironia, un po' di sarcasmo a fronte di un atteggiamento spavaldo della consigliera Minetti. Ma ripeto, mi... Che le ha detto quando gliela ha dato? Ma si è messa a ridere. Consigliere, questa maglietta... Era uno scherzo, come l'ha presa? Ma fate passare un altro... Ci potete come ha preso lo scherzo, consigliere? È simpatica, sì, ma ci mancherebbe. Zamponi è il suo tipo? Sieni di dentro! Eh, magari.